E' circa un anno che sto scrivendo il mio libro e come tutti gli imprenditori che non fanno lo scrittore di mestiere non nego di aver avuto molte difficoltà, molti blocchi dello scrittore, pagine bianche dove non sai cosa scrivere, eccetera eccetera eccetera. Quando ho visto il book camp di Denise non ci ho pensato molto, ho detto ok mi butto, vado perché ne ho bisogno. Beh, dopo un anno che ho impiegato da solo a scrivere il libro, devo dire in tre giorni veramente ha fatto il miracolo Denise e il suo staff. In questi tre giorni infatti siamo usciti, oggi è il terzo giorno, abbiamo appena finito e abbiamo la prima bozza della copertina, quindi vuol dire che ho già fatto il titolo, la copertina, l'indice è completo e ho scritto già l'80% di quello che è il libro. Che altro dire? Se sei un imprenditore e vuoi scrivere un libro, o anche se non sei un imprenditore, fallo, vieni e te lo consiglio.